cari amiche e cari amici di barba sofia benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il sillogismo di aristotele in questo video dobbiamo affrontare il sillogismo di terzo tipo il sillogismo di terza figura il sillogismo il sillogismo categorico che abbiamo visto in queste settimane e il sillogismo per eccellenza e il sillogismo scientifico e il sillogismo aristotelico che permette partendo dall'universale di arrivare a delle conclusioni più particolari ma più ricche arricchenti cioè che danno un contributo alla crescita della conoscenza attraverso il sillogismo l'uomo riesce a conoscere in maniera più approfondita più fertile feconda la realtà il sillogismo di terzo tipo di terza figura il sillogismo che presenta il termine medio in entrambe le premesse premessa maggiore premessa minore a soggetto e ovviamente il termine medio presente nelle premesse maggiore e minori sparirà nelle conclusioni permettendo però di giungere a delle conclusioni più fertile feconde di giungere delle conclusioni in cui conosciamo qualcosa in più rispetto a quanto non conoscessimo in partenza pertanto sillogismo di primo tipo il termine medio nella premessa maggiore e a soggetto nella premessa minore a predicato e sparisce nelle conclusioni sillogismo di secondo tipo il termine medio è presente nella premessa maggiore a nome del predicato predicato nella premessa minore a nome del predicato predicato e sparisce nelle conclusioni nel sillogismo invece di terzo tipo quello che vedremo adesso il termine medio cioè il termine fecondo che permette di connettere collegare quanto è separato nelle premesse e in entrambe le premesse maggiore e minore a soggetto e ovviamente sparirà nelle conclusioni permettendo però di connettere quanto era separato diviso nelle due premesse nelle premesse a e la premessa b premessa maggiore premessa minore premessa 1 premessa 2 vediamo insieme il sillogismo in questione tutti i simpson sono gialli e la caratteristica dei simpson quella di essere gialla e la caratteristica universale più pertinente più pregnante più pregnante rispetto ai simpson tutti i simpson sono gialli ma tutti i simpson sono personaggi della fantasia termine medio nella premessa maggiore a soggetto termine medio nella premessa minore a soggetto il termine medio nella premessa 1 premessa 2 premessa maggiore premessa minore scompare nelle conclusioni le quali diventano così alcuni personaggi della fantasia sono gialli il termine medio nelle conclusioni scompare il termine medio presente nella premessa 1 e il termine medio presente nella premessa 2 scompare scompaiono e c'è una connettività dunque una possibilità di connessione tra i due nomi del predicato tra il predicato della premessa maggiore il predicato della premessa minore ma anche in questo sillogismo cioè anche nel sillogismo di terza figura il soggetto delle conclusioni deriva dalla premessa minore in questo caso deriva dal nome del predicato dal predicato nominale il predicato nominale il predicato della premessa minore diventa soggetto e diventa soggetto alcuni personaggi della fantasia non tutti alcuni perché non tutti i personaggi della fantasia sono gialli perché pippo pluto topolino è pluto un po giallino ma pippo punto topolino paperina paperino iron man capitale america non sono gialli ok dunque alcuni personaggi della fantasia diventa il soggetto della conclusione che deriva dal nome del predicato della premessa minore e sono gialli cioè il nome del predicato della maggiore diventa il nome del predicato il predicato della conclusione alcuni personaggi nella fantasia sono gialli non tutti non lo sono gli avengers non lo sono superman e batman non lo sono topolino e minni non lo sono appunto willy coyote e bibi ma lo sono alcuni personaggi gialli ad esempio i simpson dunque nelle conclusioni anche in questo caso sono spariti termini medi è sparito il termine medio presente sempre uguale nella premessa maggiore nella premessa minore e nelle conclusioni si sono congiunti si sono connessi quelle due parti sono connesse quelle due parti della premessa maggiore la premessa minore che erano separate nelle due premesse ma che abbiamo potuto collegare indirettamente grazie al termine medio e dunque sillogismo di terzo tipo termine medio presente a soggetto nella premessa maggiore presente a soggetto nella promessa minore scompare nella conclusione la quale in questo caso diventa una conclusione particolare più che mai particolare ed è stata una connessione che ha permesso appunto di unire i due predicati in questo caso i due predicati nominali i due predicati nominali sono uniti nella conclusione che diventa appunto la conclusione ricca fertile feconda che noi non avevamo appunto in precedenza la conclusione il risultato di un ragionamento deduttivo potremmo dire tutte le piante va bene fanno la fotosintesi sono esseri viventi che svolgono la fotosintesi ok tutte le piante poi tutte le piante sono vegetali perché metto con pressa maggiore che tutte le piante fanno la fotosintesi perché la caratteristica più universale che accumula tutte le piante tutte le piante va bene tutte le piante fanno la fotosintesi clorofiliana clorofiliana tutte le piante sono vegetali conclusioni tutte le piante tutte le piante come termini medio scompare conclusione alcune ok alcune vegetali alcuni vegetali fanno la fotosintesi il peperone un vegetale non fa la fotosintesi va bene il peperone va bene ok non c'è tutto tutti i vegetali sono fotosintetici ma le piante sì dunque la pianta ok è un essere vivente di fotosintesi le piante sono dei vegetali conclusione alcuni vegetali alcuni vegetali fanno la fotosintesi questo è il sillogismo di terzo tipo questo è il sillogismo di terza figura e con questa diciamo panoramica abbiamo visto le tre principali figure del sillogismo categorico del sillogismo universale del sillogismo deduttivo del sillogismo scientifico nel prossimo video dedicato al sillogismo vedremo quali caratteristiche esso deve avere per essere certamente vero e certamente valido grazie mille